Oggi la società genera un nuovo tipo di criminale. Genera anche un nuovo tipo di poliziotto. Genera anche un nuovo tipo di poliziotto. Genera anche un nuovo tipo di poliziotto. Stallone e Cobra. Genera anche un nuovo tipo di poliziotto. 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 This is where the law stops And I start Stallone is a cop called Cobra The strong arm of the law It's the police of the impossible cases You're the male and I'm the cure It's a hard one, it's the man of the emergency We call Cobra Detestable for his methods Temible Implacable I'm going to pass for the conversation For the cycle Action Cobra Diovedi alle 21 Con Iris In America Viene commesso un furto ogni 11 secondi Un'aggressione ogni 65 secondi Un reato di sangue ogni 25 secondi Un omicidio ogni 24 minuti E 250 violenze carnale al giorno Un'aggressione ogni 25 secondi 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 Grazie a tutti. 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 Genera anche un nuovo tipo di poliziotto. Grazie a tutti. Dove si ferma la legge... Comincio... Grazie a tutti. Grazie a tutti.